L'incontro di Abu Dhabi tra Papa Francesco e Limam Tayeb e la fratellanza alla prova della quotidianità. Di questo si è parlato nel pomeriggio di giovedì 23 gennaio al centro pastorale diocesano di Fano con Andrea Trentini della comunità di Sant'Egidio in occasione della giornata di Metropolia, promossa dall'Arcidiocesi di Pesaro, la diocesi di Fano, Fossombrone e Cagli Pergola e l'Arcidiocesi di Urbino, Urbani e Sant'Angelo in Vado. A introdurre l'incontro Don Vincenzo Solazzi, direttore dell'ufficio diocesano per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso che ha proposto ai presenti la lettura integrale del documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza. La fede porta il credente a vedere nell'altro un fratello da sostenere ed amare, affermato Don Solazzi, parafrasando la prefazione del documento. Dalla fede in Dio il credente è chiamato a esprimere questa fratellanza umana, salvaguardando il creato e tutto l'universo, sostenendo ogni persona, specialmente le più bisognose e povere. Presente anche il Vescovo Armando che, introducendo il relatore, ha sottolineato il valore e l'importanza del documento letto e ha affermato che quando si parla di Islam occorre farlo con ragione, umiltà e pacatezza. Quindi la relazione di Andrea Trentini suddivisa in due parti. La prima riservata a rilevare gli aspetti principali dell'incontro di Abu Dhabi dello scorso anno fra Papa Francesco e l'imam Tayeb. La seconda dedicata a illustrare le attività che la comunità di Sant'Egidio a Roma e nel mondo mette in campo da oltre vent'anni a favore dell'ecumenismo e del dialogo interreligioso.